Buon pomeriggio, sono le 2, sono andata a fare la spesa, guardate che tempo stupendo, fuori c'è la neve, però il sole è meraviglioso, camminare sulla neve mi piace, e dopo andare al supermercato e trovarmi. Il pane calabrese autentico, dopo ho preso San Daniele mortadella e sempre San Daniele prosciutto cotto, c'erano anche altri prodotti italiani di cui vi parlerò prossimamente. Il pane calabrese, alla prossima, ciao, grazie.